Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, io sono Mr. Mario e oggi siamo alla quarta parte di Super Mario 3D World, oggi non sono solo perchè... allora voglio fare un esperimento, oggi non... oggi non mi... non vi... non vi coinvolgerò, molto vi lascerò alle scene. D'accordo, continuiamo. Ok, andiamo avanti, avevamo finito il mondo 4, oggi continuiamo col mondo 5. 4. Sì, sì, sì. Grazie a tutti! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.